...che considerando l'età di Ciacatraoré, inquadrò nel 2018 dai giallorossi, quindi Roma che rimane lì, proprio Feratovic che la perde per un... Ciacatraoré fa salire, Kubis lo serve, sul secondo palo dove c'è Ciacatraoré che punta, Ciacatraoré cerca di saltare l'uomo, poi la finta, ancora Milan lì, il capone a farsi vedere pericolosamente in avanti, qui Ciacatraoré per il capitano che apre subito per Ciacatraoré, buono lancio, buono lo stop, cerca di andare Ciacatraoré, la finta, supera l'uomo, è il numero 6, ancora Capone che... Ciacatraoré, fascia di destra, punta l'uomo, cerca di superarlo, poi Gesù, Ciacatraoré, limite dell'area, lo scatto per Ciacatraoré che la tiene, la palla messa in zona Traoré, ancora Capone, area di rigore, incredibile anche il fatto che in due occasioni hanno fatto due gol, questo che non va. Ciacatraoré abbiamo cambiato le posizioni offensive, ora lui è sulla fascia opposta a quella dove giocava in precedenza, ancora Traoré in combinazione, qui il calcio di rigore che secondo me... Traoré in area di rigore, l'intervento, si scontrano le gambe, però... Parte Capone, destro, Traoré va a pressare Oliveras, autore del gol, e perde palla però, allora Traoré... Palla per Traoré, punta bene, Ciacatraoré in mezzo, per esempio nella scorsa stagione quando Jungdale è stato uno risolto, Ciacatraoré, il fallo, Tolomello su Volpato, poi Ciacatraoré, ancora Tolomello... Palla messa fuori da Stanga e allora andiamo con Mastrantonio tra i pali, Morichelli in diaia e Ferratovic in difesa, Missori e Oliveras agli esterni, Tahiro... Kubis che vince l'uno contro uno, poi il fallo su Ciacatraoré, fuori dal Milan, Ciacatraoré, Rosalesi, prova il dribbling, poi Ciacatraoré, il rimpallo lo favorisce, palla per lui, Capone per Ciacatraoré, bene ancora Capone, palla in aria, Ciacatraoré può puntare lì, ha rapidità per entrare in aria e puntare, Ciacatraoré arriva sul fondo e la mette, dunque si piazzerà sulla fascia di destra, lui che è...